Siamo qui amici di Amorieti per una consegna mondiale delle biciclette che sono state ripescate sul fiume Evelino più che altro nel fiume Evelino dai volontari per forza lo ricordiamo l'evento, non so se vi ricordate da una segnalazione di un cittadino sono state riesumate queste due biciclette dal fiume Evelino grazie all'intervento dei volontari per forza come vi dicevo prima ecco che la parcheggiamo è stata messa su un'asta online, proprio su Gruppa Amorieti l'asta è stata coincitatissima e abbiamo avuto il vincitore dopo pochi giorni se li ha giudicati è Massimo Martellucci per 151 euro l'intero importo verrà dedicato per acquistare delle strumentazioni che verranno usufruite dai volontari per forza quindi parliamo di guanti, di scope, di rastrelli Massimo che dirti, a nome dei volontari per forza ti faccio un grazie di cuore, oggi la consegno ufficiale ti lascio la parola per dire le motivazioni e per farci sapere cosa ci farai di queste bici la motivazione non è soltanto Amorieti come il nome del gruppo e quindi vedere il nostro fiume che è l'anima della nostra città in qualche modo con questi rottami e questo è quello che vediamo che magari ci balza agli occhi e di prima acchitto sicuramente troveremo altre cose se andiamo a cercare nell'alveo del fiume quindi l'idea di Cristian è stata fantastica l'ho sposata subito, è stata un'asta molto lunga e faticosa con rilanci di euro in euro alla fine siamo arrivati io e Francesca Ulizio ad aggiudicarci queste biciclette sono due biciclette come potete vedere e un telaio il nostro obiettivo è quello di dare nuova vita a queste biciclette per cui verranno smontate, verranno riverniciate verranno riallestite, adesso vedremo come invece la stessa sorta avrà il telaio che verrà verniciato verrà brandizzato con il marchio Amorieti e sarà oggetto di una nuova asta per cui l'asta non è finita due settimane fa ma ricomincia nella speranza di poter un giorno adottare un'area, magari questa qui in piazza Bettino Craxi poi Bettino Craxi e farla tornare a nuova vita che Rieti ha bisogno di spazi verdi, non di cemento e questo grazie appunto per l'iniziativa guarda abbiamo il quadro di Teomondo Scrofalo che sarà un po' la nostra icona o icona o icona di quello che andrà ad accadere sulle aste del gruppo di Amorieti per ora grazie che ho saputo che il telaio verrà rimesso all'asta con il brand quindi avremo modo di fare vivere Teomondo Scrofalo e a questo punto penso che andiamo a parlare di cose interessanti cioè il Conquibus con i quali i volontari per forza avranno per la prima volta il loro ingaggio per questa cosa ringrazio per ora Giuseppe, Benito e Flavio che sono stati i fautori di questo recupero al fiume proprio in persona ringrazio anche chi fece la segnalazione la signora Santoro e questo è l'assegno appunto intestato all'associazione per la quale addirittura ci sono degli euro in più addirittura la generosità non ha confini 160 euro che vengono testimoniati appunto dall'assegno circolare di Massimo Martellucci e verranno assolutamente rinvestiti in materiale Massimo grazie alle prossime iniziative e come dicevi tu abbiamo scelto questo luogo simbolico che è Piazza Bettino Craxi abbiamo trovato stranamente aperto perché la ditta è andata via perché ho saputo che ci sono delle iniziative per adottare delle aree chiaramente si parla di parchi pubblici non di piazze però potrebbe essere magari andando avanti con le aste e tirando su qualche gruzzoletto perché no visto che magari le amministrazioni non hanno soldi per finire delle opere magari ce le prendiamo in gestione noi cittadini e abbiamo bisogno magari qua di qualche albero in più piuttosto che di continuare a mettere mattoni in un quartiere pieno di mattoni grazie di nuovo Massimo la consegna ufficiale la facciamo così e di nuovo grazie a tutti che avete seguito l'asta anche a chi non se ne ha giudicate però seguite le prossime ciao a tutti ciao